Degustazioni guidate, incontri d'approfondimento e anche la possibilità di acquistare e ricettare i prodotti rigorosamente senza glutine. Torna a Perugia dal 30 maggio al 2 giugno l'appuntamento con il Gluten Free Fest è arrivato alla terza edizione. La manifestazione che ha anche il patrocinio dell'Associazione Italiana Celiachia vuole essere un momento di approfondimento e offrire soluzioni e consigli sull'intolleranza al glutine che in Italia interessa una persona su cento.